E' partito! Finale King of Winter Ravenna, vediamo il setup, allora Michele che gioca Lannister Dark Wings, se stiamo a vederlo, contro Valentino che gioca il carissimo Targaryen Dragonpit con la che segna gli errori fatti nel torneo, questo è il setup, Sersi è un piccolino, invece rifugiato, parassiti, uovo e ombra Vado prima io? Prendiamo il plot Avviene che sono le nomine a tutte le regate Sersi ci saluta al minuto 1.13 Grazie Eh effettivamente si Tra l'altro pagando 2 ore E' un profeta delle ombre Guarda che sarò usato 2 volte Facciamo Oh lo fai io? Vai vai Bella bella Aspetta aspetta che guardo le sue prima Quattro Grazie Non mi va male La scelta di Michele è ardua Non è che ci voglio farlo Potremmo investire in ombre Io ho la mia ingretta Delotte cattive Vende varie Vende varie Anche perchè hai mostrato Vende varie Vende varie Vende varie Da notare il rumore Prima Poi esce Poi esce Quante ne vuole? Quante ne vuole? Sì, sì, perché ci sono le altre cose. 5... 3... 6... 2... 3... 4... Axel! 5 per 9 per 9 2... 2... 2... 3... 1... 1... 4... 8 carte pari Cominciano i conti, le carte Andiamo in challenge Ah, io non andro Saluta la... Ti saluta il profeta La profeta La profeta, ti hai ragione Le facciamo un bel militare da due E' entrato lui E' entrato lui Non è quando abbassa Appena entra, viene abbassato Ah, viene abbassato, sì Eh, c'era un link Guarda il cali, intanto Hai fatto, intrego? Vico? Sì Vico? Sì Vai Dammi una spari Dammi una spari Partita vincente Partita vincente Vincente Lui è partito male Ma poi si sta un po' In una taglia di minuti Ce la capiamo Se non ci completi a turn L'altro anche io Non sono partito benissimo Uccidergli Sersi Gli hai fatto fare il setup Gli hai fatto fuori Era giusto pensare Lui è Zollo Via Chi va? Scelgo io Vado prima io Dai, su, dai 5, 7 Qui ho fiscato 3,0 Qui ho fiscato 3,0 Grande piramide Ti do un po' di alleati Eccoci Vai Non ho bisogno Non ho bisogno Ghosk Con questo Ma io ho bisogno Eh capivo Ha notato Ha notato Ma ci non amassi Fatto La schiuma Ma che Ghosk Ghosk Ma che Ma che Ma che Ghosk Ghosk Ma che Ghosk Ma che Ghosk Ha neanche le carte Ha? Una 11 Penny vado vai 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 azioni non genocchia meno che non scarti giusto? ciao intrigo vai però li ho usati tutti quelli forti questo Darkwings non muore mai ne sono ancora tranquillo intanto ho iniziato a farli usare un po' vai vita ciao basta donna e un spark secondo turno uno pari però è stato più veloce aspetta che va per prima cerco io si ti va Sawyer e vado prima io la mamma io devo far fuori uno e scartare uno no no niente non lo aggiungo tu e basta sono 5 ore sono 5 ore 2, poi dopo entra lui, 2, poi dopo entra lui, 3, si c'è sto, 2, altra ombra, poi dopo, una felicità di Michele, un informatore nemico, fiat pri viene piegato, altro, altro, hai il mondo in mano, quante carte hai in mano? un rifugiato, secondo assassino, chi ucciderà? un generiere non ho, uccide l'informatore, prendo un più 2, si, lui a meno che non ha scorto una carta, un po' che farsi diventa cattivo, il maialino, il chinghiale con le corne, c'è il claim 2, questa che non mi serve, vado? vai intrigo, se hai ancora qualcosa? dai su, è ansioso di scartare? vai questa mi piace no aspetta, vai sembrava troppo eh, in effetti va però finchè li fai lì e non sui forever burning militare militare da due vai andare quella è un'altra non ce la dame ti richiedo al solito domande quante carte hai in mano? al terzo turno sono ancora due pari partita molto combattuta per il momento siamo ancora lì aspetta aspetta, sono io il primo giocatore non dobbiamo tirare abbiamo lo stesso potere lo so ma questa va prima mi sembra quando è rivelata cioè prima va questa poi va quando va quindi questa si scatta poi parlo dispari scegli sei tu e salta il dragon pit ci schiamo due ho quattro ali grazie un po' non ho visto visto niente è una ceneria da castellano rock star adesso ne hai sette giusto a meno due teschi di drago conto alle mie le due c'è un po più difficile che si vede un altro perché c'è la patria l'italia similità l'italia l'italia sento le fa intrigo quindi almeno vi faccio poter tanto ma è scattato non non pesco, vabbè, poter ci penso vai sto te cat in mano? 3 poter vincs? 20 dominans mia si scusa io vado a 3 prima ruby pesco con la dominans pesco una carta in Lannister si compra la grande piramide di Myr ovvio con tutti i loro soldi ce l'hanno fatta in Lannister almeno sono fortunato che non li serve l'altra volta ma aveva rubato quello che sconta gli alleati così lo usava anche si non l'ho usato perchè avevo solo le pesce si contando come sei partito chi va? vai tu ci mettiamo la carta in cima entrambi se lo metti in cima a quella lì ma lo metti in cima a me si si ma in cima a due mani no ma sinceramente a me lo serve oddio la pescata sarebbe quella però no no mi ha scartato un sacco ho scartato la tenda e due fede uno da due fede poi peschiamo io rivelo aggiungo 3 e io pesco 3 pesco 3 e io pesco 2 quindi andavo prima io ho 5 ore ho 5 ore mi metto un po' di roba mi metto un po' di roba è rotta la drago è rotta la drago è rotta la drago è rotta la drago è rotta è in gioco quindi un'altra ombra un luogo e poi si da ok continuiamoci Bip e questa fa una defaianza Viserys eccola bene non aspettava altro Viserys diventa Viserys diventa Viserys va da Cersei azione Viserys torna da Tenerys eccolo uno sarà provato e ho notato tutte le minus che per metter sotto segnala quinta la ma stiturno c'è Aftermath? segnala quinta la infatti ah grazie perché questa non è non è anche colpa tua questa non è una stupidata si si con Aftermath mi sono preso il quadro devo aspettare maresciallo però ho paura che mi ne rompesse uomo un ginocchiasso vai mi scordo che sei proprio vivo facciamo 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 dunque si sto così ti puoi usare per un'ora dopo tanto l'uso non facciamo no vado io non le faccio non le faccio non le faccio non le faccio vai non le faccio non le faccio così non le faccio no tu hai arrivato te non le faccio 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 io sono posto cosi ok se non le faccio non le faccio 3, 2, 1 Finito! Adesso vai che ti l'ho prescato per ok Vigitare sta Ce l'ha lui, però è uguale Ah, si è raggiunto 5, 4 Potere Hai altro robot quando fai potere? Io domino Aspetta, hai azioni? No, allora Torno a subito Domino e pesco Ah, uffa Signori e signori Solo per oggi L'ho fuso Ho detto 6, no vabbè dai Mettiamo tutto il turno Quando muro viene scartato Non quando la scelta No C'è... Ehm... Tu li tira quella lì Siamo alla sesta Penultima trama Penultima trama Se lo blocca lì Prendo un potere Non c'è mille visuale C'è un aftermath contro un... E anche io ne prendo uno del tuo aftermath Scelgo che vai prima E poi torna di nuovo Qui pesco due C'è tre Lui sta andando di rendita da maniera Eh... Ne ha una la pescata e va di rendita di quella Vado io? Deve attaccarla solo quindi Puoi provare a difenderti Puoi provare a difenderti Lui non ha ancora fatto una sfida Da specificare Come è giusto che sia Sono 23 minuti che Piat Pri è piegato O immagini malmato Se gli piace una volta è curiosità Ma dopo la seconda vuol dire che gli piace Bene Forse è recidivo Vado? Io ho... Cinque ori Sì... L'Ipsor Sì... Tu vallare dai Tira Quindi adesso ho iniziato ad abusare Allora Sì vai Scazionale no? Sì Sì Eh... E Silvio Fa male Non posso giocare ancora uno Poi ciao ciao Com'è? Ti posso ambarare? Vai Dallo setup Cattoli Stavo pensando a cosa fare E' Jimmy entrò in campo Non ci faccio Posso? Sì Intrego Vai Vai Intrego Uh... Questo è culo Lo ammetto Potere Lui torna su Dominance, mi hai attaccato comunque, quindi pesco. Piglia un potere. 11 a 6. 12. Lui si chiama pesco come un dannato. Chi va per primo? No, non ci sono. No, non ci sono. Mi trovi avanti. Vado io. Ha meglio vedere cosa sai di... Ma è uno schifo. Adesso arrivano. Ah, è il mettio dentro la volta. Ah, quante? Ah, sì. Ah, le plot sono queste. C'è una mano da... E qua c'è la Furion the Lion. Da notare alla telecamera. La cara. Valentino sbeffeggia il suo avversario. Non è vero. Cos'hai la sottopiegato? Uh. Un feudo. Un feudo. Un feudo. Sì. Puoi fare una cosa. Così per tutta la partita. La carta in mano? Una. Ne è abbastanza. Da quanto potete vedere. 12. E anche belle se ti interessa. Così fa il po' più di fatica a farlo. Vai. Mamma. Allora. Tre. Tre. Quattro. Cinque ori. Vieni per questo giro qua. Noncava la pelle. Ora scontiamo questa Poi 1 Per non dire di non averlo giocato Conti due tre chi ho Alleati Ah ce l'ho fatta Questo Andiamo Vai ombre Vai Ciao Niente Mi sa che è andata Uno non basta Ho ginocchiato i mari Ho ginocchiato l'influenza Uno Dovrò essere Ve ne cancelli uno Sì ma che lo do il potere Vabbè Vado a 13 Una sfida Lui è prima terra Già E' un Ottima scelta Fine Valentino Vince il Kiko Quinto di Ravenna Vabbè 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 Vabbè